Assessore, qual è ad oggi la situazione dei fondi comunitari per quanto riguarda la programmazione per i prossimi anni? Sì, in questi primi giorni di assessorato stiamo predisponendo la nuova programmazione 2014-2020 e stiamo predisponendo le iniziative per quanto riguarda le ultime fasi del PSR uscente 2007-2014. Proprio avanti ieri sono stato dal Ministro Martina e ieri mi sono recato a Bruxelles per verificare tutte le questioni sul campo. Stiamo avendo una serie di importanti iniziative, oggi ci sarà il Tavolo Verde, lunedì prossimo il Partenariato Generale per quanto riguarda il Fondo per l'Agricoltura per proporre a Bruxelles le migliori soluzioni per il nostro Abruzzo. Qual è lo stato di salute dell'agricoltura abruzzese oggi? È uno stato di salute penso abbastanza sufficiente, dobbiamo lavorare molto, lavorare di più per creare occupazione, valore e tutela del nostro patrimonio rurale e soprattutto creare ricchezza non solo in termini di occupazione e di fatturato ma in termini generali per tutte le aree rurali del nostro Abruzzo. Questa sera mi regherò presso l'azienda Citra, il Consorzio Citra dei Vini ad Ortona per incontrare le cantine sociali di quel territorio e per favorire insieme a loro e grazie alla loro collaborazione le migliori soluzioni per il vino abruzzese.